Direttore Giovannini, allora trattative in corso confermate per Forte e per Pinzauti che non si escludono a vicenda, potrebbero arrivare anche tutti e due? Tutte e due oggi mi sento di escluderlo perché tutte e due sarebbero state legate anche a un'eventuale cessione di Pattarello, dove credo che invece siamo sulla buona strada per il rinnovo, quindi ancora non posso dare la notizia ufficiale. Emiliano in questi due o tre giorni rifletterà sopra quanto li hanno riferito e riportato della nostra proposta che è veramente interessante. E quindi credo che gli attaccanti ne arriverà uno solo. In questo momento c'è una trattativa in corso con entrambi perché siamo legati anche alla volontà delle due società. Ecco, è chiaro che il Sessi Levante difficilmente si priva di un giocatore che ha già fatto otto reti e dovendo lottare per la salvezza. Proprio per questo mi sono sentito di comportarmi in maniera onesta con il direttore Musa, ma soprattutto con la proprietà del Sessi Levante, chiedendo al Presidente uno sforzo economico e offrendo una cifra importante considerato il fatto che il ragazzo fra 20 giorni da svincolato potrebbe firmare già per la prossima stagione per un'altra squadra. Che non è detto che siamo noi, potrebbe essere anche un'altra perché poi i piani possono anche cambiare. Però è normale che noi non vogliamo ingannare nessuno. Abbiamo fatto una proposta di contratto, così come ho detto prima della situazione catanese, dove noi non siamo assolutamente interessati oggi a offrire una cifra che il Ponte d'Aera merita per il lavoro svolto. E quindi sarà difficile arrivare a Catanese perché preferiamo in questo momento i soldi proposti dal Presidente e investirli in forte perché è un ruolo che in questo momento ci ha scoperto. Catanese sicuramente sarebbe un giocatore per il futuro che a me piace tantissimo. È arrivato a Ponte d'Aera con me da una retrocessione con la Pianese, c'è un legame anche affettivo molto bello che è rimasto e però credo che il Ponte d'Aera faccia bene a monetizzare e a prendere soldi e catanese a sistemarsi in un club importante. Ecco, non ci vedo niente di strano. Cacciatori ce ne è tanti, non ci si deve innamorare di nessuno e soprattutto bisogna sempre dire le cose in maniera corretta. Se il Catanese il primo febbraio fosse libero, il posto ad Arezzo c'è. Se il Ponte d'Aera vende il giocatore, non cambia assolutamente niente. Anzi, con il Ponte d'Aera quando mi sono lasciato non ho portato nessun giocatore di quella stagione perché i risaliti Polvani erano sì ex giocatori del Ponte d'Aera ma avevano fatto parte di un Ponte d'Aera di anni passati ma Benedetti, Catanese e Specia erano tutti ragazzi che avevano degli accordi sottoscritti con me che sono tramutati tutti con la nuova proprietà e loro hanno riconosciuto la mia buona fede, la società del Ponte d'Aera. Io sono stato contento di venire qua ad Arezzo ma in quel momento in cui parlavo con il Ponte d'Aera di andare via non sapevo neanche in che squadra sarei andato e quindi gente come Catanese e Benedetti se avessero potuto seguirmi con me forse l'avrebbero fatto volentieri. Io promisi di non toccare nessun giocatore né Caponi che era a scadenza di contratto né Catanese e Benedetti anzi li aiutai come era giusto che sia da amministratore visto che avevo un contratto in essere loro mi hanno lasciato libero di andare dopo dieci anni e era giusto cambiare sia per me che per loro e i risultati li stanno dando ragione, stanno continuando a fare molto bene quindi gli faccio i miei grandi complimenti per il campionato che stanno facendo ma ora io sono qua ad Arezzo, devo pensare all'Arezzo però nel momento in cui sono venuto via e ho trovato la risoluzione consensuale con loro credo di essermi comportato bene io con loro come loro si sono comportati bene con me. Dove potrebbero andare Poggesi, Zona e anche Kozak direttore? Kozak mi stanno chiamando diverse squadre Poggesi c'è una trattativa apertissima e sembra tutto fatto col Sesti Levante e che non riguarda assolutamente niente l'arrivo di Forte o meno ma il Sesti Levante ha una rosa ampia in questo momento deve far uscire qualche giocatore mi hanno garantito che Poggesi è di loro interesse e noi siamo già d'accordo sia con il ragazzo sia con il suo procuratore che Poggesi andrà al Sesti Levante qualora loro riescano a far uscire qualche giocatore è chiaro che nel frattempo possano cambiare le cose perché come ho detto al procuratore se avrai altre occasioni o io avrò altre occasioni di mercato per Poggesi al ragazzo li li sottoporrò quindi se il Sesti Levante fra dieci giorni non ha ancora preso Poggesi e Poggesi lo vuole un altro club lo destineremo in un altro club e per Zona vale la stessa cosa abbiamo parlato col procuratore abbiamo accennato, accenneremo scusa Iennello in questi giorni a Zona la possibilità che è giusto che pur avendo due anni di contratto vada un anno in prestito da un'altra parte perché qui ha veramente avuto pochissimo spazio il procuratore è d'accordo, mi ha detto di parlare con il ragazzo ci sono tre o quattro squadre che ci stanno chiamando per Zona che stanno cercando terzini, sinistri e under non credo che non sistemeremo né Zona né Poggesi ma questo non è detto che avverrà domani può avvenire anche fra dieci giorni e questo su volontà anche del Presidente e su mia richiesta non ci fermerà le entrate ecco noi le entrate le faremo ci dispiacerebbe arrivare al 31 che qualcuno di questi giocatori con i quali abbiamo buonissimi rapporti siano destinati a fare la tribuna o comunque sia a non essere in lista e questo cercheremo sicuramente di evitarlo Corsinelli del Gubbio invece è un obiettivo concreto direttore? sì, Corsinelli ho parlato con il direttore era scadenza, lui vuole avvicinarsi a casa ha dei problemi, sta a Viareggio e il fatto che fosse in scadenza di contratto credo che lui ne avesse già parlato con il Gubbio e mi ha confermato il direttore che c'è la volontà di lasciarla andare e quindi sono fiducioso anche se mi era stato chiesto oggi di lasciar perdere Corsinelli fino a oggi perché hanno un recupero con la Re Canatese e quindi oggi giocherà a Gubbio ma credo che nei prossimi giorni l'affare possa andare in porta e adesso parliamo